E' una vicenda sconcertante sulla quale sono pronta a riferire in Parlamento. Nunzia De Girolamo parte al contrattacco e affida ad una nota la risposta alle accuse che la vedono protagonista, ma non indagata, nell'inchiesta sugli appalti nella Asli Benevento. Chiarisce che il suo mandato ministeriale è nelle mani del Presidente del Consiglio, ma che è pronta a difendere con le unghie e con i denti la sua dignità e la sua onestà, perché, sottolinea, non ha commesso nulla di irregolare o di illecito e quanto a eventuali dimissioni non se ne parla. Il Ministro per le politiche agricole resterà insomma al suo posto almeno per ora, nonostante le pressioni e le richieste di chiarimento che arrivano da Scelta Civica, dal Movimento 5 Stelle e dal PD. Noi chiediamo che il Ministro venga a spiegare in Parlamento, poi ognuno farà le sue valutazioni, spiega il capogruppo alla Camera, Roberto Speranza, mentre il renziano Paolo Gentiloni non esclude l'ipotesi di chiedere anche le dimissioni una volta ascoltate le spiegazioni del Ministro in Parlamento. Intanto però un gruppo di deputati democratici ha già annunciato di voler presentare un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. A difesa del Ministro si schiera invece il suo partito, il nuovo centrodestra. Se ci fosse qualcosa di penale capirei, ma qui siamo di fronte ad una persona che riceve un amico che registra una conversazione, ha detto ieri sera da Fabio Fazio il segretario Angelino Alfano, che si è detto molto indignato e scandalizzato per la vicenda. Di intercettazioni abusive parla anche il Ministro Maurizio Lupi, mentre Forza Italia sostiene la linea del garantismo. Intanto però il clima si scalda. Per il suo coinvolgimento nel caso Benevento si parla di pressioni indebite, scambio di favori e nomine. Nunzia di Girolamo rischia di rimetterci la poltrona a causa di un rimpasto di governo, invocato a gran voce da più forze politiche, anche se, come sottolinea Gentiloni, non c'entra nulla con la faccenda di Girolamo. E nel mirino finisce anche il marito del Ministro, il deputato del PD Francesco Boccia, prima molto vicino a Enrico Letta, poi sostenitore di Renzi alle primarie. Appartengo a quella scuola antica molto rigorosa, rigorosa con tutti, con chi è accanto e con chi è di fronte, ma chi sbaglia non lo decido io, ma lo decide la magistratura, dice oggi Boccia. Capisco, chi chiede le dimissioni ci sarà dibattito, lei si difenderà da sola, è in grado di farlo. Ancora una volta, come già successo con il Vice Premier Angelino Alfano sul caso Sralbaieva e con il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri sul caso Ligresti, il Governo si prepara ad affrontare un nuovo scossone. Toccherà al Premier Enrico Letta occuparsene al suo rientro dal Messico.